Dopo un po' di giorni in ottobre, verso il 10 di ottobre, sono arrivati i tedeschi e li hanno chiamati 1500, 1300, non so quanti belli, tanti, parecchi italiani li hanno portati fuori, via, vatti via che ho caricato sulla nave, non ho più visti, chi diceva che ha fondato la nave, chi diceva di no, chi diceva di sì, chi diceva di no, boh. Arriva il 13 di ottobre, 1300, mi hanno chiamato anche me fuori, hanno portato al porto, c'erano due navi, una era vuota, ricordate la carica di materiali da guerra, prima di salire sulla nave c'è un'autocorretta, avevano il pane, pane grande così, fatto con il mangime dei cavalli, alto così, e in giro è un cassecchino, ma in mezzo era tutto pastoca, ma io ho fame, avevo fame, 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 ho mangiato il mio, ho mangiato tutto quello che mi hanno dato, e poi ho mangiato anche quelli che non lo mangiavano, ho mangiato anche quello che ho mangiato tanto, poi ho fatto solo la nave, tutto in stiva, verso le ore e mezza, la sera, le due navi se ne vanno, in Italia, dove vanno, non so chi diceva che diceva, i tedeschi non parlavano, anche se parlavano non capivano niente, se ne vanno, se ne vanno, se ne va, aspetta la nave, e verso le dieci, le dieci e mezza, non stavo bene, ho stato il giustivo sopra l'altro, non stavo bene, mi feceva male la pancia, mi feceva male provato, e dopo ero uscito fuori, non era proprio il completo, però andavo bene, mi fermo ancora un momento, c'era la luna, l'aria era un po' freschina, però di notte, il 13 d'ottome di notte, stavo anche mica male sopra, un momento qui, dopo vado giù a dormire, proprio in quel momento è un terribile colpo grave, un terribile colpo grave, la fine del mondo, la fine del mondo, non si può credere quello che è successo.